Parano Malviuti, Mr. Arden, Lord Fabren, Costabi, Dunahuei e Starting Grid. Dopo 200 metri di corsa in vantaggio Bridge Artemide davanti ad Alto Grado Only for Revenge, Mr. Arden, Parano Malviuti, Dunahuei, Lord Fabren, Costabi e Starting Grid. All'inizio della curva si avvantaggia Bridge Artemide davanti ad Alto Grado Only for Revenge, Mr. Arden, Parano Malviuti, Dunahuei, Lord Fabren, Costabi e Starting Grid. Poco prima dell'ingresso di Tura in vantaggio Bridge Artemide davanti a Only for Revenge, Alto Grado e Mr. Arden. i cavalli entrano in dirittura con Mr. Arden a centropista in leggerissimo vantaggio davanti a Only for Revenge, Bridge Artemide, Alto Grado, in vantaggio Only for Revenge, davanti a Mr. Arden, Bridge Artemide, Parano Malviuti, in vantaggio Only for Revenge, attaccato all'esterno da Mr. Arden, passa Mr. Arden davanti a Only for Revenge, Bridge Artemide e Dunahuei. Parano Malviuli,ёт Cati 전� wireta overall si отсola in sabbatate su montaggio I. Sade ok mir种 for Revenge, Sade ok mirata a Only for Revenge, seguito e replante a wenig insensibilità si avisa premesso lo ma плохо pericuvia. Sade ok mirata a Democrats. Sade ok me recordare so like i sp parece che abbiamo riposo in un terro giving, Darko e notte lo miaciones e sorbore. ha detto ora diritto so sea un termitosaI? Grazie a tutti.